fanghi del porto di fano stoccati a torrette tutto tace ed i residenti ed operatori commerciali della frazione sono in agitazione perché si sa poco e niente su tempi e modi per portare via da quest'area il materiale portato provvisoriamente già durante le raguzzi nella casa di colmata di ancona nessuno ci dice niente nessuno ci aggiorna ci dicono e noi vorremmo risposte e trasparenza in quest'area doveva sorgere un parco acquatico di tipo acquafan che avrebbe dato un notevole impulso al movimento turistico di questa parte della città immaginiamo migliaia e migliaia di visitatori famiglie intere che avrebbero soggiornato in loco come avviene in tutte le località che ospitano parchi a tema con positive ricadute anche sull'economia ricettiva locale e non solo ma invece lamentano i residenti non solo il progetto è fallito ed è lettera morta ma siamo diventati la discarica di fano allora il sindaco guzzi disse qualche mese poi gli conferiamo in cassa di colmata d'ancona sono passati sette anni e ancora questi fanghi sono qui ecco dall'assessore paolini vi sono arrivate comunicazioni sapete qual è il destino di questi fanghi allora praticamente sappiamo che nel 2016 questi la regione conferito ha passato la palla all'autorità portuale che avrebbe la competenza solamente per porti nazionali io ripeto ho provato ho contattato al dirigente del dell'autorità portuale e mi ha detto che la competenza è comunale però il loro coordineranno il lavoro di smaltimento di questi fanghi in cassa di colmata d'ancona però ancora tempi certi non ci sono perché solo per le analisi con l'arpam di questi fanghi ci vogliono due mesi quindi sicuramente ci vorrà minimo un altro anno però ancora è una situazione non stabile ecco non si sa fra quando li porteranno via quello che chiedete che vengano portati via il più presto possibile sicuramente vorremmo innanzitutto perché essendo uno stoccaggio provvisorio su area comunale vorremmo un chiarimento da parte dei due enti competenti coinvolti uno il comune di fano che ha dragato il porto e due dalla regione vogliamo chiarezza e che sia tutta la luce del sole oltre al danno anche la beffa ci dicono perché quest'area di proprietà comunale è in totale abbandono è lasciata all'incuria completa con un proliferare di topi d'inverno e bisce d'estate il tutto con le case a pochi metri un paesaggio poco edificante da mostrare per una località che vive in gran parte di turismo estivo basta dare un'occhiata dietro per vedere cosa veramente qui questa località una località turistica quindi non è che sia un bel vedere quindi torrette meriterebbe che questo diciamo problema venisse risolto molto molto velocemente e capire che cosa si vuol fare di questo spazio certo uno spazio bellissimo che i progetti che c'erano una volta erano per la località sarebbero stati diciamo un incentivo al lavoro a tutto poi tutto è fallito però certamente oggi sarebbe il caso di riprendere la questione in mano di poter progettare qualcosa se non altro di qualcosa di dignitoso per la località di poter progettare la questione in mano di poter progettare la questione in mano di poter progettare la